Siamo con Mattia Murnigotti, cofondatore ed HR Digital di Ic, che ringraziamo innanzitutto per averci raggiunto. Sarà protagonista della tavola rotonda dedicata al tema dell'employment branding. Quando si parla di employment branding si parla di reputazione che l'azienda si costruisce come potenziale datore di lavoro e questa reputazione è definita da diversi fattori come il clima aziendale, la retribuzione, l'orario di lavoro. Le chiedo quali sono le attività di employment branding che funzionano in Italia rispetto agli altri paesi? Sicuramente l'equilibrio tra ciò che si vive all'interno dell'azienda e ciò che l'azienda vuole comunicare all'esterno, quindi quello che viene chiamato l'equilibrio tra comunicazione interna ed esterna. L'obiettivo principale di tutte le attività di employer branding deve essere quella di mettere al centro le persone. Come poterlo fare? Noi di Ic, di Human Inspired Change, puntiamo ad ascoltare direttamente quelli che sono i bisogni, i sogni delle persone e di renderli strumenti utili per la crescita e lo sviluppo anche dell'azienda. Quindi il primo passo sicuramente da poter fare per costruire una strategia di employer branding efficace è quello di ritarare la cultura aziendale, i valori e la mission dell'azienda, costruendoli e condividendoli proprio con i dipendenti. Sicuramente per quanto riguarda le attività e le strategie di employer branding, le nuove tecnologie rivestono un ruolo fondamentale anche per attrarre nuovi talenti? Assolutamente sì, in questo caso la tecnologia digitale viene molto in aiuto della parte HR per l'analisi e per poter affrontare e leggere tutti i grandi dati che le risorse umane hanno in questo momento a disposizione e trasferirli, riprogettarli sotto forma di opportunità concrete. Diciamo che soprattutto la parte di strumenti di comunicazione efficace esterni ed interni rappresentano un elemento essenziale appunto per l'attività di employer branding proprio perché la comunicazione qualitativa oggi è diventata assolutamente necessaria ed efficace. Un'ultima domanda rapida, c'è una connessione tra employment branding e welfare? Assolutamente sì, il benessere delle persone è totale all'interno di un'esperienza di lavoro all'interno dell'azienda quindi quando la persona si sente a proprio agio, si sente bene in un luogo di lavoro, si sente emotivamente ingaggiato con il proprio luogo di lavoro sarà anche spinto a parlare bene dell'azienda e quindi anche a trovarsi bene e andare a cercare di costruire qualcosa di positivo anche per i suoi colleghi. Ringraziamo Mattia Murnigotti per essere stato con noi, linea allo studio. Ringraziamo Mattia Murnigotti per essere stato offerto l'azebo